Hell yeah! Oh man! What the hell is that? Oh shit! Delta Squad forming up Non è solo colpa mia Diciamo che quel bastardo che è esploso Quando siamo scesi non ci voleva Uno Due Però gli allarmi Anche gli allarmi non ci volevano Vabbè, allora gli allarmi Non l'avevo visto il primo colpo Perché è stato a caso Io ho detto oddio Un secondo E poi il secondo è stata la witch Io ho saltato sulla macchina Non sapevo che partisse quella cazza di macchina Capito Quindi diciamo che è stato tutto involontario Che ne sapete Beh però lo immagino Oh già è tanto che mi ricordo com'è il gioco Ragazzi Due con lo spastolo di scatola e due con lo scarelle Chi è con lo scarelle con me Ok Ok Un gruppo di riuscire con il fucilato Veniamo con il mondo Ok c'era C'era qualcosa Ma non è che non c'è più Sono direi che c'era un fucilato C'è un casino C'è un casino In realtà è normale E' semplice Solo che Come è un casino E' semplice Il violento Il violento Il violento E' vabbè però Aiuto Ragazzi Ragazzi fermi tutti Ora abbiamo No 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 E' sopra Ragazzi Ragazzi fermi tutti Te la witch sul balcone Abbiamo la possibilità di L'uomo Qualcuno la bomba Non la morta Non prendi l'aria Senti Prima questi Prima Non vedo Gripus E' lì che padella Aspetta E' lì che padella Abbiamo la vita Vole dobbia Ditemi dov'è Vincenzo Aspetta Vincenzo 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 Ora ragazzi la witch Guarda io Eh fermi Fermi E' sopra E' ignoto vieni qua Vieni qua Guarda Ah l'ho vista L'ho vista L'ho vista Ok Ah eccolo Fermi che sei incazzata Fermi che sei incazzata No non sei incazzata Eh sì un attimino No ma nel senso si è all'ora La lasciamo lì? No direi di ucciderla Ok Ma io avevo tolto quella moda Perché era ancora super sexy Avevo messo quell'altro Piano piano Che gli è penato Guarda come sei andata Bello di breve Bravi Beccar Ce n'è un altro Come ce n'è un altro Vincenzo torna a lei La ammazziamo Ma sto andando via Se ne va se ne va No spesso si muovono E quando piangono Ma quando? No è me che si sposta Sesso Che se ne vada via allora Allora io proporrei Allora fermi no Da sopra dobbiamo aspettare che sia lei a scendere Non dobbiamo andare incazzata Dobbiamo che sento il piede Quindi Tornate sotto Sì però è già prendiamo il piede C'è un po' di nuovo da prendere Sto tornando indietro Sto tornando indietro Sto tornando indietro Ebbè noi stai nella casa Non ci vede Sì ma se dobbiamo ucciderla Sì ma se dobbiamo ucciderla Sto andando alle mei 16 Sono uscite ok ora non uscite Rimanete dentro Rimanete dentro E scappate lontano Sì ma se dobbiamo ucciderla Ragazzi perché siete entrati Oh grande Vedo roba buona Attacco imminente Ragazzi Ragazzi perché siete entrati No 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 Sì 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 che tanto Tanto senti il piangista Siamo solo con Lorda Ciao Arriva Lorda Arriva Lorda Arriva dalla porta Sì 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 Sciorra Sì 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 Lei! Ragazzi Ragazzi la witch Se này Sto possiamo粗xi E Ok Sto andando Keep S 등 Tant Sto 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 Hai preso No Past No, il boomer tu, proprio lì sotto. Allora, io proporrei così. Io una l'ho proposto. Vanno. Occhio, occhio. Fermi, fermi. Ok, allora, allora... C'è tornato indietro? Ahahahah! Ve l'ho scappato! È stato bellissimo! Grigos è entrato in ma... No! È una boomer! Fermi! Grigos è entrato dentro! Grigos deve uscire! No, lo segue. Oh, andati in casa! Corri, amo! Via, via! Come corriamo, no? Non è una buona idea affrontarla in casa. Infatti, delta, cosa fai? Ah, no, la vuole evitare, giusto, dai. No, voglio evitare! Questo spesso può evitarla, meglio. Beh, però... Vieni da me, vuoi più sul pullman. Fermi sul pullman. Ah, fermi il pullman, ok. Io ho la... vuoi lanciare granate? Oh, no, no, ripiegare, 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 ripiegare. Mi ho messo troppo, mi ho messo troppo. Mi ho messo troppo. Ma io te l'ho detto quella... Boh, buono. Comunque la mod l'ho messa, perché è rossastra strana, quindi vuol dire che... Ok, dobbiamo Organizzarsi in maniera da tirargli la molotov E' allo più tempo della fuggita di banale Facciamo così Ok, allora Chi è che hai fuggito a distanza? Io e? Io Io l'ho messo in giro Perché Grievous fa tutto il giro? Ragazzi, Grievous Perché cazzo fai? Ho cattuto tutto qua Allora, eccola Io la molotov anche Allora, no Allora, ok Facciamo così Tu che fucile hai? Grievous Guarda la retromarcia Grievous, Grievous No Fai tutto il giro Grievous, che fucile hai tu? Cosa o la, come si chiama Questo qua, pure la pompa Ah, ok, quindi inutile Sei inutile Allora, facciamo così Ti do a te Guarda, vieni qua, vieni qua, vieni qua Mi piace sta cosa che sta giocando Per evitare uno Però arrivano mole e orte Ah, non posso dartela a cazzo Stai minando Io infatti volevo darti la molotov Ma lanciamela, lanciamela Ma non potremmo sparare Cioè, sperare che tutto vada bene Ok, ok Ok, vieni, vieni Passa che è molto veloce Vieni, vieni, vieni Ok, allora Facciamo così Io è ignoto Ragazzi Ragazzi, perché non la lancio direttamente la cosa e scappo via? Perché dobbiamo tirarla tutti, se no tanto vale E voi preparate le armi Il comitato Esatto Dai Allora, io mi piaccio qua Per il molotov? Sì, perché io scappo tantissimo Quindi Ok, sono caduto Eh, preparatevi, ragazzi Io sto per andare Guardi, adesso io mi piaccio di qua Delta, io mi piaccio di qua Ok, tu mi dici Ti dico io quando lanciarla Ma porca di una puttana No, orda Eh, io l'ho detto subito Eh, madonna l'orda Esatto No, gris Ok 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 E io le tiro la forza Pronti? Pronti In partenza? 3 2 1 Via No, non la lancia Perché non la lancia? Perché da me? Non me la lancia Non me la lancia Non mi premeva il tasto È stato bellissimo Dai, apposta Non è stato bello Dai, curati Coprite No, ma si è poi buttato verso Rex Sì Le tue forza saltate addosso Quello che l'ha anche sparato io per primo, non va Ma sai cosa? Da lì è saltata proprio in faccia dal telefono Sì, guardate chi senti, venga Cioè, c'è Rex di sotto Perché devo cagare gli altri che sono tutti insieme? No O c'è un M16? Lo prendo, infatti Lo prendo Ok, bravo Andiamo, andiamo Andiamo No, è stato divertentissimo Ci siamo impegniati tutti per prepararci alla filmpina Quello che ha rischiato è tutto Perché lei sapeva che ho il piano, maledetta Lei sapeva Loro sanno Un 1 C'è anche una Oh, è una buona Ahia Grazie Prego Un altro Tu? E ancora c'è questo? Ok 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 Il caravan di Ash Weaver E' un'altra E' un'altra E' un'altra Non mi piace E' un fucile di precisione rapida Roger, roger Mi preferisco Chi? Mi sto prendendo questo E' un'altra E' un'altra Io sento le mazzate di Grievous Sei fantastico Vai Ok Iniziamo a salire Facciamo tutta quella cosa Che don Vai Che Cosa stai facendo La Arex E' c'era uno zombie Ragazzi Non si faccia Nel mio istitore A sto giro Corri Oh sì Queste le prendo Cosa? 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 Piazzale Piazzale Ci servono Aia Perché ha sparato la bombola Beh io non dire chi è stata Che ha preso le munizioni incendiarie? Eh piazzate E' tranquillo adesso Sto aspettando prima l'ora che passa Ah ok Ah ma se ti muovi Ho tirato lo schifo Ok Salto Via Via Oh è entrato quello dentro E' andato E' andato Io mi sono salvato Buttandomi dall'altra parte Aia E' amassato C'è confuso Con uno zombie E' grave la cosa Oh il mio vecchio nemico Ho capito che io sono bianco Quanto una mozzarella Ma questo è un soggetto Da da me l'ha Un idrame E' andato 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 Forza Sopriamo di vincerla stavolta Anche stavolta Stavolta difficile Saliamo qua sopra Salite qua sopra Ah si qui c'era un po' di robota Si Ma io che li devo proteggerti Vai sali Grivus Grivus sali 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 delle scale Senti c'è qualcosa per te lo vado Eh ma facciamo prima che c'è roba Eh ma facciamo prima che c'è roba Sì non c'è granato qua Non c'è paura Sì non c'è granato qua Grivus Ragazzi non c'è granato qua Se lo fa Perché qualcuno lo prende Sì non Grivus RELODE'N 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 Ah paper RELODE'N RELODE'N Grivus Aspetta T1 Aspetta DELTA T1 Come I got your neckfix Grazie E Grifus va a per sé coi padelle Aspetta, aspetta Sono sceso, scusa Dove sei? Ah, c'è il gentaglia qua dietro che piange sui frigoriferi usati Ok C'è... La lancia gravata non lo prende nessuno No, 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 io l'hai detto E lo prendo io Ok, però non vuole lasciare... No, ci sanno No, noi siamo qua, dai, sto a spiegare Vabbè, volete abbandonarlo? C'è un lancia granate Ah, ragazzi, nessuno prende le lancia granate? No, io non mi trovo Non mi trovo, non mi trovo Ah, no, il problema è che... Eh, ma io c'ho, questo è bello, c'è ancora un sacco di colpi Allora lasciamo stare, è buono Ok Eh, ecco, è quello che succede Grifus io dico sempre a Grievous non andare davanti al fuoco, che bello il fuoco no è che c'era la porta il fuoco purifica te ho fatto una sfragia, si però Grievous devi toglierti quell'arma Grievous devi toglierti quell'arma ti fanno troppo danno Sì, no, più che altro sei un po' alicchio, devi nullare col corpo a corpo si, lo so che è divertente col corpo a corpo, oddio ho capito però no, stavo dicendo a Grievous, lo so che è divertente però qua non mi salvo perché noi dobbiamo fare più di un tratto, capite? Lunghissi è il tratto che dobbiamo fare per me è stato fatto per provare una tanda oh, munizioni oh, munizioni salvezza oh, dai Rex, Rex, allontanati, allontanati ho sentito il bastardino e lo so ma non solo Rex dietro pista guarda ti ho salvato, che culo e lo so aspetta qualcuno con il fucile a pompa davanti chi ha il fucile a pompa ancora? no, io non lo ho usato perché non lo ho preso proprio e mi sa che quello che ti ha avvicinato il Delta sei tu che hai lo scalello eh si eh i cuciisti precisioni e io ho anche poca vita quindi e go vado io vado io, vado io oh fucile a pompa dietro di voi fucile a pompa ignoto tu vai io ti copro no no compro io ok noi andiamo vai vai andate 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 liberate l'avanti griuso vai indietro vai avanti segui ignoto segui ignoto no griuso sopra sali sali non lasci perdere non sparate le macchine oh esatto fermi ecco ora griuso è utile che ci fai corpo a pompa io ho trovato una roba buona adesso usato il corpo a corpo e chi vuole fa morire è trovato una roba io ho trovato una roba ok non toccate le macchine e non sparate alle macchine non sto corpo a corpo eh asper corpo a corpo ce l'ho ce l'ho un corpo a corpo perfetto vieni qua arrivo ah grazie ok allora io seguo ragazzi e non girate gli occhi di qua ragazzi non saltate sulle macchine no no questa qua è all'armata è all'armata è all'armata no di qua no anche quella di all'armata rossa quella di all'armata questa qua questa qua bianca no no quella bianca no no però c'è quella al centro che all'armata e per l'altra bianca e per l'altra bianca laterale nooo troppo tardi eh no tornati indietro 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 oddio non attivate tutto cazzo tutto indietro ok stiamo giù io non copro un altro riloggo riloggo stop shooting me ah riloggo riloggo non solo vai col giorno un controllo di breve dar altro aiutino una sola riloggo il riloggo non arriva dal tombino si dal tombino stanno arrivando ma qualcun fu il tombino per favore arriva Aure eh magari ok andiamo via allora ragazzi passiamo da destra aspetta stai andando un hunter un hunter un hunter ok qua destra questa macchina qua è libera questa non è all'armata dove sono io ok mo dobbiamo andare per di qua i furgoni sono a posto ok qua forse siamo liberi ragazzi questa qua è all'armata la rossa ragazzi siamo avanti altra macchina rossa all'armata ok no 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 ragazzi venite sono già c c'è che mi spara eh dove qua sopra di qua di qua al camion ah no no c'è il ponte ma prima c'era la casa sicura si esatto no no siamo arrivati alla base del ponte il ponte è la prima della luce oh sei la madonna giusto giusto ecco la macchina la poi prendi a casa un po' di roma interessante dietro ah ma forse sante ambulanze ho visto schiantarsi cose vabbè ma i special no però ci sono un po' di armi interessanti eh si io l'ho preso già uno e io sono invece lo preso il sig 552 o se prendere eh tra un po' c'è la come si dice la la casa quindi con le munizioni io tengo tengo il sig grimus va con l'ammazzo da baseball cioè è fantastico è il fila se vogliamo andare con loro è meglio riuscire ah ecco qua il cimiter eh la in fondo vedi la scritto non giratevi non giratevi mi è piaciuto non giratevi non giratevi grimus grino sonori il tirato c'è un charger riloggio eccola vabbè bene qua e mori e mori e mori motor è mandata dritto per di là attenzia che qua ci sono le wii Filippo l'ho sentito eh proprio quella cosa qua c'è un medikit medikit e spawn 12 sto prendendo io il medikit Rex Rex vieni qua ti curo dove sei vieni qua ti curo vieni qua ti curo vieni qua ti curo scusi eccomi ben lì ti sto controllando lo zaino con me in in repubblico mando oh bombola Grimus fa tutti i giri strani ando io dove vai? guardando se c'è qualcosa di bello qua dietro no difficile ma dovrei mandare tutto dritto e laterale e io mi metterei le robe qua che qua allora qua la zona è delta ecco perché potrebbe succedere un se serve io ho una bombola io ho una bombola se serve ok il gas ah buono è sono oh i sacri basi canopi giocchi giocchi Grimus è stato ammazzato aiuto non l'ha visto ho rotto un vaso canopo ho visto quanti tanti 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 ragazzi sento la witch e la vedo ah l'ho vista l'ho vista l'occhio là davanti la vedi ok l'ho vista l'ho vista vedete laggiù la vedete tutti vado a piazzare la bombola ah la vede ce l'ho davanti ok allora aspettiamo di capire un attimo il giro che fa la strontà spiazziamo il bombolone oh orda non colpite la witch non la vedo quello è il problema è il problema è il problema è il problema non può scoppiare ancora ma chi la deve far scoppiare ma sta dietro le sparre raga ma la bombola è qua è qua esatto non te le prendo via no ok sento una cosa molesta raga dovrebbe passare qui adesso oh quella è comoda grivus 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 vieni qua grivus 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 dove sei vieni qua se no ti attacco alle spalle buona buona battuta ciao non vedo la witch qua questo lo prendo io avete preso? si l'ho preso io ok dimmi dove è la witch casa eh non la vedo non è in grado è la dietro 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 oltre il mondo è vita forse è finita è finita è finita è finita oh piccola ma dov'è? magari lì no no è qui è finita la stronza ah non mi ricordo dove è raga aia beh scusami ah ah dov'è? la witcher dov'è essere qua vicino là sotto vedi da di là ma io non la sento manco più piangere raga e ma non l'abbiamo passato dov'è tornare di dietro e va bene ma possiamo ignorarla? si effettivamente no dai chiamiamola 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 non abbiamo le bombe abbiamo le bombe madonna cosa ho schivato perchè è ignoto perchè è ignoto perchè è ignoto perchè c'è una bomba c'è una bomba c'è una bomba ma che è entrata nelle tombe ma che magari lei dorme in una bar immagino che è bloccata qui dentro e noi non la vediamo perchè è bugata qui dentro no ma si sente piangere ragazzi sono troppo indietro la storia che mi raggiungo sono troppo indietro aia ma è qui da qualche parte oh oh un po' di gente qui sono trovate rex 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 ritorno indietro trovata c'è sì 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 l'ho vista l'ho vista ma io avevo detto che era qui ok buono buono c'è anche un boomer ha fatto un bel po' di strada in poco tempo e no secondo me ha raffastato il mure a caso la vedi? in mezzo all'orda ah in mezzo all'orda bene io la vedo ce l'ho mai non il minino ok non lo farà ok non lo farà reload ma dov'è io non la vedo non è infatti dov'è è là è in fondo lì ah l'ingresso ok ok la vedo la vedo ok 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 ma che ci sta guarda 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 scappa scappa io ce l'ho allora guarda guarda aspetta all'angolo vaffanculo occhio è troppo lontana si avvicina dai ragazzi punti vai m ahahah che culo vai a te base ti avrei stancato troidi ok ok ma noi dovremmo scendere se non sbaglio o salire non mi ricordo dov'era mo qua vicino non scendere né salire in realtà non dovremmo né ma di te caccia dico ok dovremmo scendere una cosa per curarmi ragazzi ma qual è la cura che sale sotto la macchina attenzione che ci stavo anche un altro amico qui ecco oh grazie no griff perchè? ma che stato? ma io lo tirato io ma non ho dovuto stare niente ma perchè lo tirato in mezzo? una banda di giri una banda di giri una banda di giri sei fatto? ci sono nati in fegna comunque siamo arrivati eh ragazzi siamo arrivati che sembra figlio? io quella sembra figlio io sono come rinforzo siamo arrivati già ce l'abbia Grievous che fa? ah beh si corri siamo giù nella discarica va un giochi arriva un giochi ahahah ok madonna che inferno raga mamma mia questa mi piace manca l'ultima eh manca l'ultima manca l'ultima manca l'ultima mamma mia manca l'ultima pesante bellissimo oh io sono tra i primi quel punk no no aspettate aspettate ragazzi questa è la penultima è la contrada c'è una cinque ancora una prima del ponte ah eh sì perché sei quello del sottoponte però mmm oh cacette sono cacette eh un casino